Regione Toscana, il Consiglio regionale Un tema all'ordine del giorno dell'ultima seduta è stato l'arcipelago toscana e in particolare il sistema di trasporto tra isola e continente e il Consiglio regionale si è confrontato in aula con un documento unanime tra maggioranza e opposizione per trovare delle soluzioni e migliorare per l'arcipelago toscano la situazione dei collegamenti. Ma noi andiamo ad ascoltare nelle carrellate di interviste le posizioni dei gruppi politici su questo tema. Siamo fortemente preoccupati innanzitutto per la questione dei lavoratori, dei marittimi che chiaramente in un eventuale cambio di gestore si troverebbero probabilmente anche in una sorta di esubero di personale. Non basta solo una clausola sociale che possa garantire i diritti di questi lavoratori, delle loro famiglie. E questo è sicuramente uno dei temi principali su cui serve fare maggiore chiarezza e serve anche tanta determinazione perché noi siamo anche preoccupati del fatto che ci possa essere anche una agitazione da punto di vista dei lavoratori non dico di arrivare ad uno sciopero ma sicuramente non c'è serenità nel mondo dei lavoratori marittimi. Il secondo punto è che noi lo abbiamo sempre detto in questi anni non è pensabile che si possa pensare ad uno spacchettamento delle tratte e delle linee e serve invece un lotto unico che garantisca anche il finanziamento per la continuità territoriale di tutte le linee. Non si può confondere l'aspetto fortemente di principio che riguarda appunto il finanziamento che la regione dà per la continuità territoriale cioè per permettere pari opportunità o perlomeno di avvicinarci a pari opportunità degli abitanti delle isole dell'arciperia autoscana rispetto a quelle della terraferma e confonderlo con il principio commerciale dicendo che se una tratta come quella di Piombino-Portoferraio si autosostiene commercialmente possiamo non finanziare quella linea. È un concetto che noi non possiamo accettare. Ci sono poi tutta una serie di problematiche innanzitutto la durata del bando che è stato di 12 anni abbiamo avuto anche una proroga di un anno che ancora non abbiamo capito perché c'è stata e un bando di 12 anni deve avere anche la possibilità di essere modificato di avere la possibilità in corsa di arrivare a trovare delle soluzioni che a livello soprattutto ambientale, a livello di servizio. L'assessore Baccelli ha presentato una comunicazione molto stringata nella quale ha ricostruito i passaggi che la Giunta ha fatto in questi mesi con tutta una serie di attori ma non ha sciolto i nodi che invece noi abbiamo voluto porre e che stiamo cercando di condensare all'interno di un documento votato all'unanimità dal Consiglio ovvero sia alcune caratteristiche del bando. Il primo è il lotto unico perché non possiamo accettare l'idea di una frammentazione che scarichi sulle tratte più deboli i costi e rischi di tagliare i trasporti soprattutto per le isole minori, Capraia e Il Giglio in particolare ma anche per alcune corse dell'isola d'Elba. Poi c'è un problema di tariffe perché il lotto unico evidentemente può consentire di giostrare sulla parte buona del trasporto marittimo cioè quella per esempio fa riferimento al turismo per consentire anche attraverso un contributo della Regione Toscana di ammortizzare le tariffe a favore dei residenti in modo particolare i pendolari e gli studenti. E poi abbiamo chiesto alcune garanzie di natura ambientale come per esempio l'adeguamento della flotta un ringiovanimento della flotta anche lavorando magari sulla durata del contratto di affidamento e per esempio è richiesta esplicita di Fratelli d'Italia la realizzazione come previsto anche nei piani di sviluppo dei singoli porti di sistemi di approvvigionamento dell'energia elettrica delle navi che sostano durante la notte che possa essere effettuato direttamente attraverso il sistema elettrico nazionale e non tenendo i motori accesi tutta la notte sia per ragioni ambientali sia in alcuni porti anche per ragioni naturalmente di basso impatto acustico nei confronti dei residenti e dei turisti. Se noi abbiamo introdotto dentro questo dibattito sul cabotaggio marittimo e sul servizio di continuità territoriale sull'arcipelago e quindi nei temi dell'accessibilità turistica dei servizi per i residenti abbiamo introdotto sostanzialmente due questioni da prima il tema della gestione della tratta Campiglia-Piombino da valutare l'ipotesi dell'inserimento nel bando per una gestione anche della tratta ferroviaria da parte dell'eventuale vincitore della gara per il trasporto marittimo questo con due obiettivi il primo di efficientare le coincidenze sull'asse tirrenico rotaia-rotaia e quello frontemare sul porto fra navi e treno e dall'altro quello di favorire e incentivare l'utilizzo del treno quindi più in generale della mobilità dolce, delle biciclette a bordo eccetera il secondo tema è quello della modernizzazione della flotta in termini ecologici per essere coerenti con gli investimenti che l'autorità portuale sta compiendo utilizzando le risorse del fondo complementare al PNRR per l'elettrificazione delle banchine questo accade a Livorno, a Piombino, a Portoferraio quindi anche sulle tratte passeggeri sarebbe importante che si contemplasse l'ipotesi di adeguare la flotta per l'utilizzo di queste banchine elettrificate e quindi ricaricare le navi e gli impianti di bordo a motori spenti Altro tema affrontato dal Consiglio regionale della Toscana la relazione annuale del garante per l'infanzia anche qua maggioranza e opposizione si sono confrontate su un tema molto importante sentito da tutti i gruppi politici si lamenta una carenza di personale per poter svolgere le attività che si vorrebbero programmare come garante per l'infanzia ma ascoltiamo nella carrellata delle nostre interviste quali sono le posizioni dei consiglieri e dei gruppi politici Il tema dell'infanzia è un tema che ci sta particolarmente a cuore siamo preoccupati perché consideriamo che negli ultimi tre anni c'è stato un calo demografico importante meno di 17.000 minori in Italia e nel Toscana e per quanto riguarda anche la povertà relativa c'è circa il 10% dei ragazzi toscani che sono in condizioni di povertà relativa noi vediamo un garante per l'infanzia un po' distaccato una sua sorta di autoreferenzialità a volte ripete le stesse identiche pagine nel corso della sua relazione lo vorremmo molto più presente in Toscana ci sono delle segnalazioni, una parte corposa nella relazione circa 220 anche per argomenti molto seri come l'inadeguatezza degli ambienti scolastici le tariffe massime per autobus e per menza che addirittura hanno portato molti bambini a chiamare scuole però non vediamo dei dati aggregati non capiamo poi da dove provengano questi dati quindi c'è da lavorare sicuramente per mettere anche più personale a disposizione di queste figure per poter operare meglio i garanti non sono tali in quanto espressione del Partito Democratico i garanti sono tali in quanto figure di garanzia in Regione Toscana tutti i garanti sono espressione della maggioranza politica che governa la Regione Toscana è una cosa assolutamente sbagliata è un vulnus democratico tra l'altro nell'elezione del Presidente Mazzeo in maniera unanime sia nella conferma metemandato c'era stato l'impegno ben preciso a fare in modo che i garanti non fossero soltanto di una parte politica i garanti non sono assessori sono garanti il Partito Democratico si faccia una ragione di questo e inizi a utilizzare le regole di democrazia in maniera corretta Il garante dell'infanzia sta lavorando bene mette in evidenza anche qui delle pecche che sicuramente esistono la garante dell'infanzia manca sempre cioè lei dice sempre che gli mancano gli manca persone gli manca personale per poter fare quello che vorrebbe fare e d'altra parte si deve fare con quello che abbiamo a disposizione in ogni caso direi che il lavoro è un lavoro incommiabile per quello che ha potuto fare molto soddisfatti il garante dei minori la dottoressa Bianchi è una persona seria molto preparata e anche molto appassionata del suo ruolo sta facendo un lavoro immenso e anche con una carenza di organico che ormai è endemica a cui nessuno provvede e che invece dovrebbe trovare una soluzione anche questo corso che lei ha fatto per questi nuovi tutori di minori non accompagnati svolge una funzione fondamentale ecco questi nuovi tutori svolgono dei bellissimi percorsi di accompagnamento nei casi che gli sono stati affidati dibattito tra i gruppi politici sull'autonomia differenziata la nuova legge approvata dal governo nelle scorse settimane che intende riconoscere maggior autonomia nella gestione di specifiche materie alle regioni in consiglio regionale i gruppi di partito democratico Italia Viva e Movimento 5 Stelle fanno fronte comune in una conferenza stampa dove hanno attaccato la nuova norma indicando che con due delibere si pongono l'obiettivo di arrivare a richiedere il referendum abrogativo di parere opposto la Lega che plaude all'iniziativa governativa e vede miglioramenti anche per la Toscana questa è una legge sbagliata perché va oltre l'autonomia che noi condividiamo è una legge che rischia di creare 20 staterelli che sarebbero veramente poca cosa nei confronti dell'Europa e del mondo che rischerebbe di aumentare le diseguaglianze con regioni più forti che si rafforzano regioni più deboli che si indeboliscono di consegnare alle regioni materie importanti e unificanti come quelle della pubblica istruzione come quelle dell'ambiente come materie legate ai diritti civili che non possono essere frammentate ma che devono essere gestite unitariamente se poi pensiamo che c'è un'altra legge in itinere che è quella sul premerato sarebbe come dire che avremo o rischiamo di avere 20 staterelli che sono comandati da un capo o da una capa che viene eletta direttamente con i poteri del Parlamento e del Presidente della Repubblica molto indeboliti e quindi il rischio è veramente quello di alterare quelli che sono gli equilibri e le articolazioni dello Stato previste dalla nostra Costituzione noi siamo per la semplificazione la semplificazione la si può fare decidendo meglio chi fa cosa tra comuni province regioni Stato ma senza disarticolare il nostro Paese Noi siamo fermamente contrari a questa riforma a questa legge e soprattutto perché aumenterebbe il divario fra nord e sud del Paese dopo decenni in cui i governi tutti si sono spesi per diminuire questo divario ricordo tutti i fondi per il mezzogiorno le politiche per il mezzogiorno tutto quello che è stato fatto verrebbe assolutamente messo nel cestino e aumenterebbero le disparità fra regioni più ricche e quelle più arretrate noi questo non lo vogliamo assolutamente vogliamo un'unità del Paese Sono sinceramente soddisfatto innanzitutto dell'approvazione della legge Calderoli dopo anni e anni di fatiche di sacrifici di sudore dei militanti della Lega siamo riusciti a far approvare un atto cornice per quanto riguarda l'attribuzione di ulteriori competenze alle regioni questa è una bella notizia che deve essere colta anche dalla regione toscana oltre a quelle materie che possono essere davvero utili nell'interesse di tutti i toscani faccio alcuni esempi la geotermia e il ministro Calderoli è stato ben disponibile a concedere la possibilità di una royalty per quanto riguarda questo settore dove noi produciamo energia i beni culturali e anche i porti tutto indispensabile per un maggiore sviluppo della nostra regione io credo che si debba parlare su questi argomenti che non si debba arroccare su posizioni ideologiche del resto Gianni da questo punto di vista ha cambiato argomento ha cambiato opinione più volte nel corso del tempo e noi siamo ben fiduciosi che vi possa essere un dialogo siamo giunti alla termine del nostro racconto settimanale del Consiglio regionale della Toscana noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni Regione Toscana il Consiglio regionale